Per quanto vuoi, con il conno questo, un sentimento, un sentimento, che tutto è perfetto, perché non, non siamo in vendita, non movemo, cruzando una porta. Colócate, comienza il viaggio, in un momento, siamo dentro, e sentire la forza del vento, solo voglio, solo voglio, vivire il momento, me dijiste, sin volontà, non siamo nessuno, questa notte, una volta più, seremo qualcuno, in l'alma, alta tensione, alucinante, e in mia mente, total control, funziona il viaggio, di ecco, allora stai a tutti. A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.